Il governo ribadisce la linea della fermezza contro i violenti, un innalzamento dell'attenzione soprattutto per le sedi istituzionali, comprese ambasciate e consolati, e una strenua difesa del 41 bis, anche e soprattutto nei confronti di Alfredo Cospito, l'ex militante della Federazione Anarchica Informale, trasferito da Sassari al carcere di opera a Milano, a causa delle sue condizioni di salute, compromesse da uno sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre scorso, e che ha deciso di portare avanti anche dopo il trasferimento, il ministro della giustizia Carlo Nordio. Io penso che in questo momento storico il 41 bis sia indispensabile, sia necessario mantenerlo. Sui provvedimenti per rispondere alle violenze di alcune frange anarchiche che si sono mobilitate per sostenere cospito, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Fin troppo pleonastico, diciamo ultronio dire che non ci faremo condizionare perché è nei fatti, quindi non c'è nessuna valutazione né in un senso né in un altro. Intanto alla Camera, dove si discuteva sul testo unificato delle proposte di legge per istituire la commissione antimafia, le parole del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che ha definito cospito un influencer dei mafiosi contro il 41 bis, fanno scoppiare la bagare in aula. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, si ma dobbiamo concludere onorevole. Concludo, incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato di terroristi con la mafia, lo voglio sapere in questo caso. Durissima la replica del PD, la capogruppo alla Camera, Deborah Serracchiani. Questa unità è stata rotta, è stata insozzata dalle parole dell'onorevole Donzelli, che sono gravissime, che hanno contenuto il carattere di rilevanza penale.